3 to 1 live, Pietro Stannamente Hai un pianoforte lì con te Questa è sospetta Mi sono attrezzato L'ultima volta Quando ci siamo sentiti Non avevi un pianoforte, eri non so dove Ero semplicemente in un'altra stanza Tutto però collegato con cavi e il resto Quindi non riuscivo a spostarmi E questo qui, sì, è proprio il mio Bambinone a coda lunghissimo Mamma mia, guardalo lì Guardalo lì Ma prima di abbuffarci Di pianoforte E di competenze E della tua guida Corsos competenze Dimmi se in partenza Stavi dicendo dove vai? Questa volta qua scendo giù in Kenya Sai, sempre facendo La musicoterapia con i bambini Facendo tutti i nostri percorsi E questa volta qua scendo giù in Kenya È stato tutto organizzato Negli ultimi tre mesi perché il covid Non ci dava sicurezza Quindi negli ultimi tre mesi Mi ho detto ok Si riparte in missione Dove andiamo stavolta? Kenya È un grande progetto questo Caspita Ma e quanto starai? Non lo so Un mesetto credo questa volta Anche perché poi a novembre devo tornare in Rwanda Fare un progettone gigante Che c'entra il pianoforte Perché in Rwanda portiamo un pianoforte su un furgone Lo facciamo girare per tutto il Rwanda Facciamo un documentario Per poi far raccoltafondi Per le borse di studio per i bambini Ah dai Fighissimo questo Gigante questo Gigante sì Ma un pianoforte su un furgone Quindi non può essere un mega pianoforte Insomma sarà un pianoforte Esatto Soprattutto è un sacrificabile Perché in Rwanda Non ha proprio le strade migliori del mondo Quindi farà un po' la fine che deve fare Però lo dipingiamo con i bambini Sarà tutta un Ma che bello Fai sempre queste cose bellissime E hai anche i pantaloni Che io sogno di avere da sempre Ma siccome non sono mai stato Cool abbastanza Per poter avere dei pantaloni così Capito? E quindi non li ho mai avuti Né quando ero ragazzino Né quando ero single Né adesso figura Se mettessi i pantaloni così Mi tirano un pomodoro in faccia I braccaloni Però sono Sei sempre fighissimo Insomma ti vedo anche nelle storie su Instagram Fai sempre robe fighissime Ma com'è? Com'è quella vita lì? Fare una vita così Tra pianoforte Missioni Mi sembra bellissimo Ma guarda Io sono la persona più felice del mondo Io sono un eterno felice E al massimo ogni tanto Mi arrabbio un po' Però Io vivo una vita che mi piace tantissimo Tra le missioni Gli ospedali La musica Mamma mia La musica Poi Pietro Ogni tanto ti vedo appunto Qua e là Con noti personaggi Insomma del mondo musicale E non solo Beh guarda A me in questo Io devo ringraziare il covid tantissimo Mi ha chiuso un sacco di porte Non mi ha fatto andare in missione per tanto Che mi ha fatto star malissimo Però cavolo Io ho aperto i social Grazie Grazie alla pandemia Perché avevo più tempo Sono cresciuto lì Grazie alla pandemia E sai Anche solo Francesca Io e te ci conosciamo Grazie a Francesca Quindi Francesca Madame Per chi non conoscesse È stata lei Che mi ha aperto anche diverse porte Poi anche Shade Viene con me in ospedale Quindi Tutte queste personalità Le ho conosciute grazie ai social Io devo ringraziare tantissimo il covid Per questo motivo E se ci vado è per questo Almeno una cosa L'ha fatta Infatti una cosa positiva L'ha fatta Ma poi ti ho visto Anche a Sanremo È stata una mia allucinazione No c'ero C'ero Ero con Madame Appunto Ah ok Ok Seguivi Vedevo un po' Di dietro le quinte Sì ma poi C'è stata una piccola apparizione Che prima doveva essere suonata Ma poi il pianoforte Non ci stava nel fare Sono state una serie di Controversie E quindi è stata solo un'apparizione Però ero lì con Francesca A farci le nostre cose È stato bellissimo Sì sì Bello Bellissimo Ovviamente in chat Ti chiedono subito Il tuo vicino come sta Salutiamolo Starà benissimo Salutiamolo mai Esatto Sarà Nervosissimo Dopo questo periodo Ma Ti mandiamo un caro saluto E invece La cosa Che è interessante Diciamo la notizia Di oggi Per quello che ci riguarda È che esce Il tuo corso La tua guida Su competenze Di cui io sono felicissimo Non l'ho ancora vista Però Non vedo l'ora di vederla Perché Uno dei miei figli L'età Devo sempre incastrare Diciamo Quello di 12 anni Ha Lui è un quarto grado Adesso non so se i gradi Sono diversi Tra Italia e UK Comunque lui è fourth O fifth Adesso fa il fifth grade Di pianoforte E quindi ogni volta Come dire Mi guarda Dicendo Che cazzo ne sai Tu di pianoforte E vorrei un giorno Stupirlo Capito solamente Facendo Tin 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 E allora ho detto Questa è la mia grande occasione Per cui insomma È chiaro che uno Non può imparare Pianoforte In un corso Videocorso E questo è evidente Però avere delle basi E sapere Da dove cominciare Secondo me È la cosa importante No infatti Io In questo corso qua Io ho cercato di essere Il meno accademico possibile Perché Ho cercato di seguire Un po' il mio percorso Io non ho fatto un percorso Accademico e ferreo No? E quindi sarebbe stato Sbagliato Spiegarlo in modo Accademico e ferreo Quindi Qualche nozione Che non puoi evitare Di dare Di musica Proprio A livello più Più tecnico Che cos'è un'ottava Come si fa a calcolare un'ottava Dove trovo il do Nella tastiera Però poi Quello che io volevo E guarda Mi ha aiutato anche Una persona A capire come strutturare le lezioni E io Volevo inserire Almeno un brano E quindi A fine di competenze Del mio corso Un brano lo si sa suonare Perché se no Non ti resta niente Di Di concreto Pratico Io anche quando magari Insegno a qualche ragazzo O qualche Qualche amico Amica In pianoforte Non posso solo insegnarti Perché se no Dove vai Almeno saper fare qualcosina Serve Infatti Così è A me è proprio questo approccio tuo Che ha conquistato Perché L'ho visto in altri settori Ti faccio un esempio Che non c'entra niente Norma Che insegna inglese È una ragazza Che insegna inglese E anche lei Esplosa Sui social In questo periodo Dall'inizio Da metà dell'anno scorso Si è messa a insegnare inglese Lei era un'insegnante Fuori dai social E ha avuto Un grande successo Adesso Però il suo approccio È completamente diverso Per cui è vero Che uno può imparare inglese In mille modi Però Lei ha un taglio diverso Che ti riesce A agganciare Ti fa appassionare E poi valuterai tu Quanto vuoi andare in profondità E allora secondo me È la stessa cosa Cioè tu hai un taglio Che io il tuo corso Ho voglia di vederlo Il corso magari Di un fenomeno O a lezione di Di pianoforte Dall'insegnante di mio figlio Non ci andrei mai Ma proprio mai Neanche sotto tortura È proprio un fatto così Di taglio È di schemi ecco Sono d'accordo Sono d'accordo Anche perché Quanta voglia Una volta che tu sai suonare Il tuo Anche solo veramente Un branino piccolo Però ti viene voglia di dire Lo faccio meglio Perché La scala Più di così Non puoi fare Meglio di così Non puoi farla Ma se puoi farla Un po' più veloce Il brano Anche solo lì Nella gioia È più semplice Puoi farlo Con più bassi Con più alti Con le armonie E quindi Cambia tutto E almeno dare Questa voglia Di appassionarsi Mi sembrava Il minimo È forte E su Twitch C'è Joy Allie Ciao Che ti chiede Il corso Su competenze.it Per quale livello è? Per chi è a zero di musica Va bene O è per chi ha già Un livello intermedio? No Assolutamente Quello che avevo pensato Quando tu mi avevi parlato Di competenze Che Avevamo chiacchierato un po' All'improvviso Di cos'era competenze E Io ho pensato Serve qualcosa che sia Più alla base Della base Cioè proprio Che ti voglia Inserire in quel mondo Ti voglia Far venire voglia di farlo Perché se no Non so Perché io dovrei Dar per scontato qualcosa Chi mi dice che tu sai Già fare qualcosa Invece no Parte proprio Dall'inizio Ma Tanto dall'inizio Che ti spiego Cosa c'è dentro il piero forte Che sono le cose Infatti io ti sto Nella mia ignoranza Ti sto per dire Ma il piero forte Quella cosa lì sotto E quella dietro di te Vicino all'improvviso Hai capito? Quello Cioè Dentro competenze Spiegare Anche solo Qual è la differenza Tra un verticale E un coda Perché costa 40.000 euro Il coda E 10.000 euro Il verticale Cosa cambia? E' importante Se vuoi conoscere il piano forte Senti E come Percorso Io ho visto Ad esempio Che c'è la compressione Allo strumento C'è Uno sguardo Agli spartiti Che per me Ogni volta Che uno mi dice Gli spartiti O quando li guardo Quelli di mio figlio Mi viene l'angobb Proprio una roba Che penso Derivi da Da quando ero ragazzino Che avevo fatto Alcuni Alcune lezioni Di pianoforte Era rimasto La storia Dello spartito Mamma mia L'ho spartito Il coso Che fa Cloc 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 Amma mia Metronomo Cioè Proprio non dormo La notte Per cui Non so Ecco Come l'hai affrontata Quella parte lì Per renderla Meno Nightmarosa Sì sì Mi vado a spararsi Nei piedi Perché Allora È proprio Io ci sono tre cose Che non sopporto Nell'impostazione classica Dello studio della musica Il solfeggio E l'abbiamo evitato Proprio come se fosse Che non esiste E appunto Il modo di approcciare Gli spartiti E il modo di approcciare Al tempo Sono tutti importanti Cioè Il solfeggio Gli spartiti Al tempo Se non li conosci Almeno un minimo Non suoni tanto Però si possono affrontare In un modo più leggero E io gli spartiti Ovviamente Volendo dare più spazio Alla musica Abbiamo solo dato proprio uno sguardo Ti faccio vedere Come Perché ho qua il libro Che abbiamo usato Cioè Se questo qui è uno spartito Almeno l'abbiamo guardato Che cosa vuol dire Questo segno Sì Dio non metterà mai a fuoco Cosa vuol dire Quel segno lì Perché È in mezzo delle righe Ed è uno e sulla riga Almeno quello È importante Conoscerlo Però Per imparare a leggere Uno spartito È un po' come imparare a leggere La carta Ci vuole tempo Ci vuole esercizio Quindi L'abbiamo affrontata Per dare uno sguardo Allo spartito Ma il focus principale Rimane qui Sul bianco e nero Della tastiera Graziano Su Facebook Ti chiede Domanda che Non è affatto stupida Graziano Dice So che non è la stessa cosa Ma il corso Va bene anche Per chi ha la tastiera Allora In questo caso specifico Sì Per quanto io ti spieghi La differenza Tra cos'è una tastiera E cos'è un pianoforte Che è super riassunta E mi odieranno tutti Per questo super riassunto Ma serve La grande macroscopica differenza Sta nel fatto Che il pianoforte Ha i tasti pesati Ovvero Se tu premi piano Quello suona piano Se tu premi forte Quello suona forte Perché c'è tutto il meccanismo Di quanto pesa Premere un tasto Le tastiere Alcune riescono A simulare Questa pesatura Però in modo ovviamente Digitale E non fisico Però va bene Va bene una tastiera Per capire Dove metto le mani Anche perché O hai un pianoforte in casa Oppure comprare un pianoforte Solo nella speranza Un giorno Di capire Se ti piace È un po' un rischio Perché sono strumenti Grossi Costosi Ingombranti Non è come una chitarra Che ne compri una da 50 euro E capisci se funziona Ma invece Tutto il magico mondo Degli accordi Che ogni due minuti Sento Appunto mio figlio Gli accordi L'accordo L'accordo In do In re In final Sai che cazzo sia L'hai affrontato Se ne parla Non se ne parla È fondamentale Perché Il motivo per cui Te ne parla tanto tuo figlio È perché Un brano Con gli accordi E senza gli accordi Sono due cose diverse Ti faccio un esempio Facile Facciamo un brano Di ultimo Tu prendi La sua melodia Ok Così L'hai fatta Senti La identica Con gli accordi Cioè Ah vabbè Gli accordi Servono ad appoggiare La melodia Quindi se io Ho una È come cantare A cappella Quindi cantare da soli O cantare con gli strumenti È la stessa identica cosa Quindi Non potevano Non affrontare gli accordi Era importantissimo Anche perché Non sono difficilissimi Da capire Anzi Sono degli insiemi Di note Quindi devi solo capire Che il rosso Sta col giallo E non sta col verde Devi metterli insieme In modo giusto E a quel punto Riesci a Dare molto più senso A quello che suoni A sentirti anche più appagato Perché non suoni Solo tre notine Ma suoni Una canzone Che è tutta la differenza Chiaro No no Enorme differenza Ok Mi hai aperto un mondo Va bene Gli accordi Sono Assolutamente Sold Come si usa dire Perfetto Ma Ti faccio invece Una domanda stupida A volte Quando vai su YouTube Ci sono tutti questi video Dove si vedono I tastini Che suonano Ah sì Con Con delle Righe tipo Tetris Che fa E tu Come dire Segui la riga Per suonare No in sostanza E una domanda Che secondo me Tutti quelli ignoranti Come me Magari si chiedono Come fai A A capire Dove metterle mani Cioè quali sono i tasti giusti No Perché Io se provo Dico ma sarà questo O sarà quest'altro Boh Lo so Allora Quel programma Non diciamo il nome Noi non lo diciamo Ok No comunque Quel programma È un programma che io ho usato Anche molto Si basa sui segnali MIDI Quindi su Il segnale MIDI È un segnale audio Dettagliato Mettiamola così E Non nasce molto Per insegnare O per far imparare Nasce più per Una spettacolarità Di far vedere Queste strisce Che escono O entrano Dentro le note Ci si può imparare qualcosa A scapito di quello Che dicono Molti classicisti Per carità Non impari A suonare il pianoforte Ma impari A eseguire un po' A macchinetta Qualche cosa E sicuramente Devi capire un attimo Come è fatta la tastiera Per saperlo usare Però Se vuoi un rapporto Per capirlo nella vita reale Che cos'è È un po' come la differenza Tra uno spartito E una tabellatura Per la chitarra Ho spartito E questa cosa qua Anche per la chitarra Esiste La tabellatura Ti riproduce Le sei corde Del pianoforte E ti dice Qui metti il dito uno Qui metti il dito due Qui metti il dito quattro Tu te le metti così E fai l'accordo Ecco Quel programma lì Che fa cadere I fili colorati Sulle note Ti dice Ok Adesso al centro della tastiera In questo tasto qui Prendi questo Questo E questo Bom Esecuzione Mera esecuzione Mera esecuzione Però può servire Io l'ho usato Anche spesso Paolo Bersighelli su youtube Dice Ho visto Pietro Correre come se non ci fosse Un domani in corso Moncalieri a Torino Poco fa Guarda che Allora Io e te oggi Dovevamo vederci All'una e mezza E quindi Poi c'è stata Questa traslazione Spostamento Io non ero a casa 20 minuti fa Quindi Correvo come un fulmine Per arrivare in tempo Davanti a questo pianoforte Infatti sono sudatissimo Vabbè Ma Eh Hai detto che Alla fine di Questo corso su competenze Che Lo ripetiamo È un corso Per chi Vuole partire da zero Su pianoforte Vuole Conoscere questo Strumento Meraviglioso E Ovviamente Come tutti i corsi Competenze Non ti trasforma In Rubinstein O Linglang Come si chiama In In dieci minuti Questo Non esiste Perché questa cosa Non esiste Invece L'obiettivo È Far appassionare Le persone E dare Il là Ecco O capire Se è una cosa Che magari Ti piace O magari Provi E dici No Però Proprio a me Mi rompi I coglioni Basta Ok Sai che Il pianoforte Non fa per te No Quindi Ognuno Ha la sua Hai detto Però che Alla fine Uno Si porta a casa Una canzone Che sa suonare E avevo visto Che hai Sia imparare Un brano facile E imparare Una canzone Perché Nella distinzione Tra brano e canzone In realtà C'è una discussione Sopra enorme Io In questo corso Ho cercato Di spiegare Cosa sono le scale Cosa sono gli accordi Bene Mettiamoli insieme E consolidiamo Quindi in realtà Ci si porta a casa Si può dire due brani Il primo È il classico Inflazionatissimo Hino alla gioia Beethoven Che conoscono tutti Però Almeno lo si porta a casa Con gli accordi completi Giusti E con la melodia Completa Giusta Quindi lo si fa Bene Anche mettendo le mani In modo giusto E poi il secondo A cui ho dedicato Tre lezioni diverse È Sound of silence Quella che fa Questo è bravo qua Il motivo per cui Ho scelto È perché Mi ha permesso Di spiegare bene Una scala Proprio diversa Una scala Un po' più difficile Di quelle Che Tipo il do maggiore E poi Di metterci degli accordi Un po' più complicati Ci vogliono tre lezioni Perché Prima studiamo la scala Poi studiamo gli accordi Poi capiamo Come metterli insieme Ma alla fine Con un po' di esercizio Viene fuori La canzone Anche cantabile Quindi si può addirittura Ampagnare la voce al piano Pensa Pietro Se faccio il tuo corso E poi Dico Il video di oggi Ragazzi vorrei Suonarvi un pezzo E lo canterò Anche qua da Bright Se ti fai un po' I suoni Sound of silence Guarda Io Questo sarebbe Un botto pazzesco Cioè I miei haters Stapperebbero lo champagne Esatto Per giorni Per giorni Ti chiedono Il Biagio 84 Ti chiede Se per un paraplegico Su Twitch C'è il modo Di suonare il pianoforte Senza pedali Allora Ho spiegato bene Che cosa sono i pedali Perché molti li tralasciano In molte tastiere I pedali neanche esistono Quindi I pedali Non so neanche Se riesco a farti di vedere No Non riesco Sotto il piano Sono tre Nella maggior parte I pianoforti E hanno molte funzioni Che non sono Fondamentali Quindi il pianoforte Suona anche Io adesso Non sto premendo i pedali Il pianoforte Non è che smette di suonare Pietro Quando fai così Mi fai incazzarci Anch'io vorrei essere In grado di fare così Non è giusto Non è giusto Io devo ammetterlo No comunque I pedali servono A dare delle intenzioni Quindi Riprendiamo la roba di ultimo Se io la faccio Senza Con un pedale Il suono si allunga Può ammorbidirsi Può indurirsi I pedali hanno molte funzioni Quindi Si può suonare il pianoforte Senza Assolutamente sì E ci sono ad oggi Diverse ricerche Su Attivare i pedali Senza i piedi Appunto Per chi non ha la possibilità Di attivarli Utilizzando gli arti inferiori Ce ne sono alcuni Per esempio Che lo fanno Con la pressione Macellare E sono degli studi Ancora Degli start up Che non sono ancora Almeno non credo Che siano già esistite Non l'ho più seguita E Tanto l'importante È premere qualcosa Dare un comando Allo strumento Se è digitale è ancora più semplice Quindi Si può suonare E bisogna reinventarsi un po' Forte E Yalo su YouTube Dice Sto cercando di imparare Da autodidatta Con la tastiera Ma non riesco a fare altro Oltre che guardare I video delle note Filanti Forse perché Il problema è che Se uno fa solo L'esecuzione Gli manca il contesto Io lo vedo anche Non so Tennis Che guardo Migliardi di tutorial Di tennis ogni giorno Sono impallinato In questo momento È completamente diverso E su competenza Abbiamo la guida di piatti Se tu guardi La guida di piatti Lui ti dice Una serie di cose Che ti danno Il contesto Di cosa vuol dire Fare un colpo Non ti dice Vai da qua A qua Sposta la ma Cioè Quello è La parte di esecuzione Se tu non hai in mente Invece la mappa complessiva L'esecuzione Da solo Non ti porta lontano Per cui hai bisogno Di entrambe le cose Ecco questa è la mia Esperienza in altre Perfettamente d'accordo Poi in realtà Adesso Il mondo accademico Mi odierà un pochino Per questo Ma Nessuno Vieta di essere Autodidatti E nessuno vieta Di imparare Attraverso quei tutorial Dove le note scendono Magari rimarrai Un po' più limitato Però Il tuo obiettivo È saper eseguire Paganini con Così Con i rimbalzi Oppure È suonare qualcosa Che ti appaga Che ti fa star bene La sera Perché ti metti lì E ti suoni la tua musica Rilassante Perché Se l'obiettivo è la seconda Non serve Andare a dei livelli Stratosferici Se l'obiettivo è la prima Iscriviti al conservatorio Perché è lì che vai a Capire come suonare Così Per me L'aspetto interessante Di molte discipline È che Per anni L'idea era Che O Tu facevi Pianoforte Vai al conservatorio O vai E fai le lezioni Con l'insegnante Fai Tutti i gradi Così Allora O hai quell'approccio lì Oppure non suoni No questo è un po' Il concetto Mentre invece Come dire A me piacerebbe Imparare a suonare Pianoforte Ma Due cosine Così da fare Quando magari Una sera Sei lì con gli amici Ci va E canta una gazzaggina Ma così Per Per Cazzeggio Senza nessuna ambizione E basta E sono Sono felice Così ecco Quindi hai tanti livelli Di approfondimento Di apprendimento Che puoi avere oggi Sì sì Sono proprio due Noi siamo abituati Nella nostra società E nel nostro modo Di vedere la musica A vederla solo come Il Devo eseguire Devo eseguire bene In realtà La musica è qualcosa Di talmente personale Talmente intimo Che anche solo Se si sanno suonare Quelle quattro notine Ma quelle quattro notine Le metti in fila Come piacciono a te In quel momento Sei triste Le metti in fila tristi Sei felice Le metti in fila Belle allegre Cavolo Ti svolta Il modo di vedere la musica Quindi Bisogna un po' Cambiare Cambiare asset Io ho Amici Che sono Maestri di conservatorio Di cui ho una stima pazzesca E non suono bene Come loro In modo così preciso Però hanno scelto Una strada diversa Dalla mia Non migliore Non peggiore Io non mi sento Peggiore di loro Perché non suono Così preciso Ma Vivo la musica In un mio mondo intimo Basta cambiare un pochino Asset mentale E si va lontani Senti Il mondo Istituzionale Del pianoforte In che rapporti sei Con il tuo mega successo Sui social Come dire Se ne sono fatti Una ragione Ti vedono come Un alleato Perché alla fine Fai un lavoro Di divulgazione Straordinario Dal mio punto di vista E di appassionamento Di masse Che è Incredibile E poi se uno Si appassiona Magari dice Ecco vado al conservatorio Voglio fare Il pianista Il concertista Ognuno Sceglie la sua strada Oppure È un mondo Diciamo Accademico Chiuso Che dice No Cioè il pianoforte O è così Oppure zero Ma allora Bisogna fare Non so Non bisogna generalizzare Su mondi Ma su persone singole Perché Il ragazzo Che mi ha aiutato Con competenze Edoardo Brugnoli Uno dei miei migliori amici È uno Un esecutore Di cui si ascoltano su Spotify Le musiche classiche Cioè se cerchi Chopin La maggior parte Le ha eseguite lui È proprio Di una precisione Indescrivibile Lui con me Ha un rapporto Rispetto al mio modo Di suonare il pianoforte Straordinario Perché la vede come me Lui ha scelto La strada Della precisione Dell'esecuzione Io ho scelto La strada Del mio sentimento Personale Con la musica Che non vuol dire Suonare male Per carità Vuol dire Non suonare in modo accademico Prettamente accademico Ci sono singole persone Sui social Soprattutto Tu lo sai meglio di me Che vogliono tanto Scrivere La propria rabbia La propria frustrazione E quindi ogni tanto Arriva il commento È mai sbagliato E eseguire questo In modo preciso E io ho avuto molta fortuna Sui social Perché me la sono molto cavata Sempre dicendo la verità Ovvero Guarda Hai ragione Io però non ho mai detto Di essere Io faccio musicoterapia Con i bambini E quello che mi piace Mi piace suonare E se sbaglio qualcosa Sono contento di potermi migliorare E boom Si esauriva sempre lì Poi in realtà Sai quando ti metti a fare Il brano Cioè dimmi qualcosa In un insieme di 400 note Per individuarlo Proprio in un video Di 20 secondi L'errorino Si è andato a cercarlo E le idee invece Su Tiktok Sei sempre più presente Su Tiktok Al momento Come social tuo Di riferimento È sempre A numeri sì A numeri sì E come ti muovi Quanto posti Come ti vengono le idee Sui contenuti da fare Che linea Stai seguendoli Allora È complicato Perché io sono un po' Come alcuni miei colleghi Un po' off topic Perché Non è il Tiktok Solo frivolo Del prendo Mi adeguo A un trend Che sta passando E Eseguo quel trend Che è Onorevolissima come cosa Ma io cerco di Non farlo Soprattutto perché Parlando di musica Viene un po' complicato Quindi Tolti i video più frivoli Quindi tutta la storia Del vicino Tutta la storia Del daltonismo Quando parlo di musica Io ho tre approcci diversi Imparare a orecchio Un brano Io ho La fortuna Che non è abilità Lo dico sempre La solo fortuna Di avere l'orecchio assoluto E quindi È divertente Fare questa gag L'orecchio assoluto Detto in soldoni La capacità di capire Una frequenza Solo ascoltandola Quindi Io ascolto L'ultimo brano Di Fede Se qui I video sono classici Con l'iPad Qua davanti Ascolto il brano A ripetizione E Lo eseguo Sul momento Con qualche piccolo Quindi Quindi quello è un trend Un filone Che seguo Quello di Correggere I tutorial Ultrasemplicistici Sbagliati Ci sono alcuni Che pubblicano Video In cui c'è la tastiera Con scritto Uno Due Tre Sui tasti Li premono a caso E dicono Questo è un tutorial No Non è giusto Fai piangere le persone Così Se gli insegni cose sbagliate E poi L'ultimo Quello più ampio In cui le idee Sono un po' più Che possono piovere dal cielo Ovvero Provare A costruire strumenti Con oggetti Che solitamente Non suonano Carote Mattoni Uova Ok Devo fare un flauto traverso Con un mattone Per dire E quello è semplicemente Un po' ludico E un po' divulgativo Nel senso stretto Di musica Ovvero La musica è tutto ciò Che suona Tutto ciò che ci piace Far suonare Non è per forza Solo un pianoforte Scusa Pietro Conosci già Mariani Degli Extra Liscio? No Allora ti devo connettere Ma Appena mettiamo giù Ti metto in contatto Ma Gli Extra Liscio Sono questo gruppo Di Se li vai a vedere Erano anche a Sanremo E Sono usciti con un documentario E stanno facendo Un botto incredibile E lui Ha questo laboratorio Non mi ricordo il nome Laboratron Non so L'ora del genere Dove Lui raccoglie Una marea Di strumenti musicali Incredibili Ti mando anche il video Di quando mi ha fatto la chiacchierata A parte che lui è Strepitoso Cioè è una di quelle persone Che dice Voglio stare lì Ascoltarlo sette ore Però ha una maria di strumenti Quindi devi assolutamente Conoscerlo E andare lì nel suo lab E fare delle robe Perché andate a nozze Secondo me Sì sì ma Tu lo sai Io sono contento Di conoscere persone Sempre Lui è Lui è fighissimo Guarda Senti caro Sono molto felice Di questo corso Su competenze Lo seguirò Cercherò Di non deluderti Maestro E di provare A quantomeno A avere delle basi Delle basi E lo trovate Competenze.it Ve lo faccio rivedere Lo trovate Qui Se andate direttamente In home page Poi sarà fuori Da lunedì Se non sbaglio Io poi Da lunedì E Fatemi sapere Perché Veramente merita Pietro Insomma Sai quanto Ti stimi E ti adoro In generale Ecco per il tuo approccio Secondo me L'approccio Giusto In questi casi Anche piacevole Divertente Però ti fa riflettere Insomma Ha una combinazione Secondo me Il tuo modo di fare Che Che porta dietro Tante cose Scusa ma la foto Dietro di te Sei tu da piccolo? No Nell'immagine Qua Nella Ma come hai fatto A vedere No Perché c'è Vedi che c'è Nella Nella foto Che abbiamo messo Su competenza Ah Sì è vero Sì è questa qua Ah vedi Ma è fatta apposta Per creare Questa sensazione O è così A caso Se l'ho notato io Adesso con te Grande Pensa Se eri tu Con le mani Sul pianoforte Sarebbe stata La chicca Vabbè sì Lì era arte Però Grande Pietro Grazie mille Competenze.it Trovate il Nuovo Corso di Pietro Morello E noi ci teniamo in contatto Se passi da Brighton Mi raccomando Fai un fischio Allora L'ultima cosa Voglio dirti A me piacciono Tantissimo I pianoforti Nelle strade Nelle stazioni Nelle piazze Mi piace tantissimo E ho visto anche tu Quando puoi Ti vedo in giro Ecco Sempre Io porto pianoforti Ovunque Guarda Lo porto pure In Ruanda Quindi Una figata Pazzesca Pazzesca Quanto ci metterai A fare il documentario Quello lì In Ruanda Guarda Se consideri Quanto stiamo lì È un mese Quanto siamo proprio In sede in Ruanda E anche perché È grande come la Lombardia Però comunque Devi girarlo tutto E quanto ci vuole A fare quel progetto Conta che il pianoforte È partito tre giorni fa In nave Quindi il pianoforte Deve arrivare Devi accordarlo Sistemarlo sul furgone È una cosa Molto grande Molto dispendiosa A livello di energie Però A me piace tantissimo Come idea Suonare con Gorilla Ma ti rendi conto Bellissimo Fantastica Aspetta Ho ancora due domande Non posso non prenderle Marco Silvani Ti chiede Qual è per te Il miglior pianista In attività Quello che In attività di oggi Che ti piace di più Che Allora Ti dico un nome Tolto gli inflazionati Io sono un grandissimo fan Di Roberto Cacciapaglia Andato a sentire Le sue composizioni Ha suonato anche La corona sonora di Ex 2015 Meraviglioso Bravissimo Compositore Io ti dico Un pianista Che io ho sentito Solo eseguire Non ho mai sentito Le sue composizioni Che si chiama Costantino Carrara Che una volta Ha portato un pianoforte In Islanda E ha fatto un video Ma se vuoi ti ci metti In contatto Il grande personaggio In cui ha Con un elicottero Ha portato un pianoforte In Islanda Per fare un video Di Game of Thrones Figurati Io lui Lo ritengo Un bravissimo pianista Molto affine a me E sempre rimanendo Un po' sugli sconosciuti Così vi do nomi nuovi E non i più sentiti Edoardo Brugnoli Mio grandissimo amico Io non so Cerco di imparare da lui Ogni volta che lo guardo Speravo Pietro dicessi E poi volevo dirmi Marco Montemagno Marco Montemagno Non l'ho ancora sentito Sulla mano Ora no Per il momento Graziano invece Donadio ti chiede Mi sai dire La complessità Nell'eseguire Con accordi All of me Di John Legend Che non conosco io Allora E quanto tempo Può volerci Per arrivare A quei livelli Grazie Dipende molto Da come la si vuole fare Ci sono due modi La prima fare anche La linea vocale La seconda non farla Faccio un esempio Super veloce Senza linea vocale E' semplice Perché è così Capirai che sono proprio Cose molto schematiche Molto in fila Mentre la linea vocale Come? Non sembra difficile No infatti Mentre quando si va A riprodurre la linea vocale Certi momenti diventano anche Quindi Questa è già più complicata Esatto Quindi dipende un po' Dall'approccio che hai È un brano Perfetto per iniziare Perché ha quattro accordi Che si ripetono All'infinito E ha anche una buona ritmica Da dover seguire Abbastanza complessa Quindi consigliatissimo Per iniziare Assolutamente Ma scusa Per iniziare Anche tipo Einaudi Che è Come dire Ripetere Accordi simili O sto dicendo Una cazzata Allora In molti brani di Einaudi Si ripetono spesso Gli stessi accordi Soprattutto Einaudi E' musica minimale Quindi ti permette Di Mi prendo il ritmo in testa Perfetto il ritmo L'ho fatto Prendo gli accordi Gli accordi li ho fatti Prendo la scala La scala l'ho fatta Posso anche improvvisare E E' bello Einaudi Perché se sai fare Nuvole bianche Canzone più inflazionata Della storia La puoi modificare Nuvole bianche Nuvole bianche è quella Che fa così Che è molto conosciuta Per il tuo ritornello Una volta che Nuvole bianche La sia nelle mani Si può anche pensare di Vabbè dai Esco dagli schemi Provo a fare due note in più Provo a fare quella nota laggiù E tentando Spesso e volentieri Vengono fuori anche cose personali Reinterpretazioni E' indicatissimo Perfetto proprio Grande Pitt ad amico Chiude dicendo Servirebbero due mani destre Però Esatto Io non sono capace con la sinistra Pietro Questo è un problema E' un po' più complicato E per questo Io guardo Mentre parlavamo Mi sono venuti in mente Altri due nomi Da consigliare Un po' più Conosciuti Rispetto ai nomi Che ho consigliato Di pianisti Da seguire Da osservare Uno Sono andato a vedere Un suo concerto da poco Si chiama Alexander Romanovski Proprio Romanovski Di una bravura E lui sembra avere due mani destre Mi è venuto in mente per questo Perché Esegue Rachmaninov Che è uno degli autori Di pianoforte Più Incredibilmente difficili Insieme a Chopin E pochi altri E sembra avere due mani destre Altrettanto brava Valentina Lisizda Ti consiglio Sia a te Monti Che a tutti Di guardare la sua esecuzione Della Rhapsodia Ungherese Ok Ci si rimane Così Perché non capisci Quanto rimbalzi Le dita sembrano volare E di una bravura Inenarrabile Wow Grande Pietro Sei srepitoso Buon viaggio E ricordo a tutti Competenze.it Trovate il corso di Pietro Morello Se volete avvicinare il pianoforte È la cosa giusta da fare Soprattutto in questo periodo Di vacanza O di periodo estivo Insomma può essere il periodo Per avvicinarsi Grazie ancora Pietro Alla prossima Ciao ciao A prestissimo Ciao a tutti